Quando i criminali diventano eroi, qual è, secondo lei, il punto centrale, l'errore centrale di queste produzioni cinematografiche? Sì, intanto facciamo l'esempio del Padrino, che dei film citati è quello più famoso. Dal punto di vista artistico, il Padrino è un capolavoro, fatto molto bene. Però intanto voi dovete sapere che prima di vedere il film Il Padrino nei cinema, c'è stata una grande mediazione con Cosa Nostra Americana. Cosa Nostra Americana ha voluto leggere la sceneggiatura e ha corretto la sceneggiatura. Ha imposto degli attori, ha determinato il linguaggio, l'espressione, le frasi del film Il Padrino. Questo è abbastanza grave dal punto di vista dell'arte del cinema. Quindi è un film censurato prima di uscire. Una volta visto, è stato dato l'ok ed è stato un capolavoro. che ha affascinato Mezzomondo, raccontato di una famiglia di Cosa Nostra, di una famiglia che non è mai esistita. Fa totalmente bene che ha affascinato, ha epinotizzato, calamitato tutti, innamorandosi di questo film. Al punto di identificare la presenza delle mafie, l'esistenza delle mafie, è quella. Cosa Nostra è quella. Quindi l'abbiamo romanzata e diventata buona, romantica, affascinante. Quando si fa vedere il film su Rina, e si fa vedere Rina con Bagarella mano nella mano, con la Bagarella mano nella mano, con la fidanzata, si fa vedere una persona normale, che ha degli affetti, che è romantico. Tralasciando nel film, ad esempio, quando Rina in una tavolata, con venti persone, c'era qui il killer, qui la persona che doveva essere uccisa. Venti persone mangiavano attorno a un tavolo. A un certo punto, nel corso del pranzo, il killer con un coltello sgozza la vittima. Il divertimento di Rina, il gioco di Rina qual era? Che tutti dovevano continuare a mangiare come se nulla stesse accadendo sotto i loro occhi. Cioè, lui che gridava, che urlava come un capretto mentre lo scannano, gli altri dovevano assolutamente essere indifferenti. Questo era Rina. Vi ho raccontato questo episodio quasi inedito rispetto sulle stragi sapete tutto. Cioè, in questi film, anche come Gomorra, se voi andate davanti a una scuola media, non a un liceo, voi vedete dei ragazzi che vestono, che si muovono, che camminano, che si tagliano i capelli, che fanno il gesto di sparare così, anziché così, esattamente come nei film di Gomorra. O è Savastano. Savastano. Allora, quindi se è questa la cinematografia, dove si parla di mafia, è meglio non parlare di mafia. Se è questo il risultato. Perché io mi devo preoccupare dell'impatto che ha sui ragazzi, dell'impatto che ha sui bambini. Quindi cominciare a pensare non tanto e non solo all'incasso, all'aspertecolizzazione di quello che si va a produrre, non pensare solo ai soldi e ai guadagni. E' ovvio che chi produce deve anche guadagnare, investe, rischia. Però non pensare solo al guadagno fino a se stesso. Dobbiamo anche dare un messaggio a qualsiasi cosa noi andiamo a fare. Qualsiasi lavoro, possa essere cinematografico, di qualsiasi arte. Noi dobbiamo pensare poi all'impatto che avrà sulle nuove generazioni. Ecco perché ho osato criticare, abbiamo osato col professor Nicasso criticare, mi rendo conto dei mostri sacri che stanno educando, che stanno indirizzando il Paese, ci mancherebbe altro. Non voglio assolutamente dire, criticare nessuno. Io continuano ad andare gratis e a parlare dappertutto. So che purtroppo c'è gente che si fa pagare anche per le commemorazioni a Falcone e a Borsellino. Lo so anch'io, sì. Non so se sono gli stessi, ma insomma. No, questo mi scandalizza sul piano etico. Cioè io dico sempre, io faccio il magistrato da 30 anni e da 30 anni che vengo pagata con le tasse della gente. Quindi se io devo andare, io vado, io insegno all'università, io vado gratuitamente all'università, perché se posso parlare ragazzi, posso parlare perché per 30 anni ho fatto questo lavoro. Stessa cosa se vado alla scuola Interforza, alla scuola della polizia, se vado dappertutto, ovunque, nelle scuole superiori. Non è possibile, non è pensabile che per andare alla commemorazione di Falcone si possa prendere, si possono essere pagati o accettare, anche accettare dei soldi. Senta, nel libro a un certo punto riporta una cosa che se tra l'altro la volete vedere andate su Youtube e la vedete, il confronto tra Gaspari Mutolo e Totò Riina nel 1993, dove a un certo punto Gaspari Mutolo dice a Totò Riina avete rovinato la mafia perché prima dei Corleonesi c'era un codice d'onore e c'era una moralità. No? Grosso modo, gli dice una cosa e c'è. Sì, no, dice, no, non sono d'accordo su quello che sta dicendo. No, beh, certo che non sono d'accordo neanche io. Sì. E si figuri, se non sarei venuto qua a intervistare lei. Questa cosa qui, insieme a tante altre, costituisce una mitologia, d'accordo? Una mitologia, per cui c'è un codice, per cui sono persone che tutto sommato lo fanno per aiutare i più poveri, eccetera, eccetera, c'è tutta una mitologia. Questa mitologia qui, quanto incide ancora nell'affiliazione alle varie mafie? Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Purtroppo... Perché capisce che da uno che la guarda esternamente appare incredibile che ci sia qualcuno che crede ancora a Osso, Molosso, eccetera, e ai beati Paoli, insomma. Guarda, io le posso dire questo. Purtroppo ci sono dei professori universitari che vanno in università facendosi pagare questa volta dicendo, parlando, facendo la differenza tra la mafia buona e la mafia di una volta, e la dicono loro, specifichiamo, dicono che era una mafia buona che aveva valori, che aveva un'etica la mafia di oggi invece non hanno regole pensano solo ai soldi, eccetera, eccetera non è assolutamente vero sul piano storico sul piano storico, non solo sul piano giudiziario ma anche storico noi ad esempio abbiamo fatto una ricerca proprio nel periodo del fascismo dove sentendo il parlare comune dice, ma quando c'era il fascismo tu potevi lasciare il portafogli la porta aperta tanto nessuno rubava intanto non c'era niente da rubare entrando dentro casa perché la fame si tagliava a fette ma non è vero perché se noi andiamo a noi siamo stati a fare ricerche nell'archivio di Stato di Reggio Calabria nell'archivio della sezione di Corte d'Appello di Reggio Calabria e della Corte d'Appello di Catanzaro noi in quegli anni abbiamo documentato processi nei confronti di 100, 120, 200 persone noi abbiamo visto letto atti di stragi fatti in un paesino sopra Melito Portosalvo dove sono stati uccisi sette persone tra queste anche dei bambini e c'erano in quella casa anche due gatti che sono stati messi su un pezzo di legno e con una cetta gli hanno tagliato la testa questo era quello che accadeva anche nel periodo del fascismo ma anche quando non esisteva l'andrangheta ma la picciotteria che è la struttura embruniale dell'andrangheta a fine 800 inizi 900 già anche allora non esisteva cioè gli indranghitisti e i mafiosi in genere sono tendenzialmente dei vigliacchi sono delle persone che uccidono alle spalle che hanno da sempre violentato le donne e i bambini c'è una regola c'è una regola dell'andrangheta dove c'è la bacinella sarebbe la cassa questa cassa che è una percentuale del guadagno sulla vendita della droga sulle estorsioni sugli appalti e serve per mandare 100 euro al mese ai detenuti nelle carceri a pagare gli avvocati a mantenere la famiglia ogni tanto è capitato in passato che il capo mafia è andato a casa della giovane sposa a portare i soldi e spesso ne ha approfettiato sessualmente a proposito di valori dell'andrangheta a proposito di questa etica di queste falsità che vengono insegnate che vengono raccontate in università che vengono scritte su certi libri che per fortuna sono poco letti poco venduti dove si parla di questa etica si parla di queste regole dell'onore ma quale onore l'onore di cosa le mafie sono state sempre parassitarie e si sono nutriti dell'economia del tempo negli anni 30 40 50 c'erano gli agrumeti gli oliveti la mafia in modo parassitario si faceva pagare la guardiania rubavano 4 mucche 5 mucche si incominciava a mediare il massaro il gabbelloto sarebbe l'attuale amministratore delegato di un'azienda anziché rivolgersi ai reali carabinieri anche a fine 800 si rivolgeva al picciotto quindi si dava legittimazione al picciotto e in questo modo il picciotto faceva finta di recuperare 4 mucche una se la mangiavano se la vendevano e quindi il massaro il gabbelloto faceva bella figura nei confronti dell'attifondista e l'attifondista avallava quindi sostanzialmente il passaggio della picciotteria all'andrangheta noi l'abbiamo è stato sostanzialmente implementato ed è stato avallato e finanziato dai latifondisti dall'aristocrazia e della borghesia chiaro quindi però tornando a prima questo mito questi miti che a uno normale fanno sorridere no fanno ridere fanno schifo ancora hanno un potenziale lei racconta di ragazzi di Vibo Valencia pagina 97 eccolo qua lei racconta i ragazzi di Vibo Valencia per i quali il libanese e il freddo protagonisti della serie romanzo criminale sono ridiventati gli eroi di una baby gang che voleva diventare cosca quindi c'è un potere fortissimo c'è ancora sì i giovani cioè lei l'ha visto sì certo i giovani sono affascinati da ciò che è misterioso da ciò che non conosce da ciò che c'è dietro quella parete e quindi molti ragazzi ancora oggi vogliono entrare a far parte dell'andrangheta si fanno battezzare nell'andrangheta per sentirsi più importanti per sentirsi loro camminano mezzo metro da terra un minuto dopo il rito di affiliazione perché sentono di poter appartenere a qualcuno a qualcosa di potente a qualcosa di onnipotente rispetto al resto della società quindi secondo lei siccome allora questi film qui che lei cita per uno come me ma come molti non come me e basta quelle figure lì una volta chiuso il televisore dice a me questi qui mi fanno schifo e questo non è solo mio è di molte persone che guardano il film e alla fine dice a me questi camorristi questi indranghetisti questi mafiosi mi fanno letteralmente schifo non avevo dubbi prima ora sono sicuro dopo aver visto il film questa è una platea poi c'è una platea di persone fragili che hanno ancora secondo lei e secondo lei non secondo lei come opinione perché lei l'ha visto che dopo aver visto questi film si affigliano o sentono allora secondo lei per questo gruppo di persone fragili eccetera qual è perché capisce bene che si può dire vanno male quindi siccome vanno male per alcuni fragili lo togliamo anche per quelli forti di mezzo il film ha capito che voglio dire sì allora poi dopo ci sono stati film sul Falcone e Borsellino quelli di quelli che ne pensa ma intanto completiamo la risposta rispetto a quello detto sulla prima parte cioè intanto io dico che non bisogna assolutamente parlare di censura qualunque sia il film sono riflessioni però bisogna aumentare le riflessioni bisogna aumentare i dibattiti perché secondo me molti giornalisti o molti opinionisti hanno una sorta di timore reverenziale parlare criticare certi miti criticare certe opere d'arte io sono notoriamente scostumato e dico spesso il re è nudo molte volte mentre parlo mi rendo conto di tirarmi la zappa sui piedi di crearmi un danno dal punto di vista della mia carriera ma non mi interessa dire quello che si pensa è una cosa bellissima un piacere incommensurabile e allora io dico che bisogna avere osare avere il coraggio nelle trasmissioni di intrattenimento nelle trasmissioni dove si discute anche di politica di costume denunciare queste cose denunciare queste cose e dire noi non vogliamo insegnarvi a voi scrittori sceneggiatori registi come fare un film non ne saremmo capaci però vi diciamo solo questo attenzione che questo è il prodotto questo è il risultato purtroppo ai noi quindi cercate all'interno del film di inserire un personaggio positivo di inserire un qualcosa di alternativo rispetto a quella storia che non deve essere solo violenza su violenza per spettacolizzare la violenza perché così vendiamo di più così terrorizziamo di più la gente così la gente si impressiona sempre di più e quindi poi ne parla ma ne parla in modo negativo e in modo non costruttivo per una nuova società per un nuovo mondo è chiarissimo grazie senta partiamo un altro tema ci sarà a ottobre un congresso dell'associazione nazionale magistrati non le chiedo nulla è sullo specifico non la voglio io sarò lei sarà presente in un panel dove si parla di liberalizzazione delle droghe leggere e va contro tale Franco Roberti procuratore antimafia la sua posizione è rigorosamente contraria ecco ce la spiega? sì mi pare a fine ottobre tra il 25 ottobre c'è una ci sono due tre giorni dell'associazione nazionale magistrati che fa una serie di incontri a Siena mi pare e in uno di questi incontri mi pare un pomeriggio si dibatterà su questa legge sulla legalizzazione delle droghe delle cosiddette droghe leggere e siamo come diciamo relatori come di due posizioni diversi da una parte io che sono contrario alla legalizzazione dall'altra parte il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti che è a favore della legalizzazione intanto voi avete notato io ho detto cosiddette droghe leggere perché sul piano scientifico è sbagliato parlare di droghe leggere perché la marijuana sul piano scientifico ha un THC sicuramente qui ci saranno presenti dei medici qualche tossicologo qualche biologo sa perfettamente che il THC della marijuana di oggi è diverso rispetto a quella del periodo dei figli dei fiori ma è un principiativo molto più forte e che ha un'incidenza un effetto sull'organismo molto molto forte che sfiora quello della cocaina o dell'eroina allora vediamo quali sono cosa dicono chi è d'accordo per la legalizzazione si dice se noi legalizziamo le droghe allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata io ho fatto l'esegesi di queste frasi 3.000 volte nella mia mente ma non sono riuscito a trovare una spiegazione perché dico questo stando alla lettera della legge che si sta discutendo in Parlamento si dice che può essere venduta in farmacia la marijuana e l'hashish a chi ha compiuto 18 anni ma se al liceo già si consuma erino e cocaina ma se nelle scuole medie si consuma la marijuana mi spiegate chi ha da 11 anni a 17 anni 11 mesi e 29 giorni se non possono andare a comprarli in farmacia da chi andranno a comprarla continueranno a comprare dalla criminalità organizzata quindi legalizzandola come che allontaniamo i giovani dalla criminalità a meno che non intendiamo giovani chi ha più di 18 anni e quelli che hanno da 11 anni a 17 anni 11 mesi e 29 giorni dove li collochiamo come li definiamo bambini ma anche definendoli bambini e se consumano cocaina se consumano marijuana come facciamo ad allontanare la criminalità organizzata quindi questa affermazione per giustificare la legalizzazione dal mio punto di vista non regge seconda osservazione dicono se noi legalizziamo le droghe consentiamo alla polizia giudiziaria di soffermarsi su cose più importanti che non il contrasto alla marijuana e all'hashish e quindi la polizia giudiziaria si può dedicare ad altro e allora cosa dico io un'organizzazione criminale che controlla questa piazza si comporta esattamente come un negozio di igiene alimentare il negozio di igiene alimentare si vende pane, pasta, sale, olio aceto se io tolgo marijuana ed hashish mi resta eroina, cocaina ed ecstasy quindi l'organizzazione criminale continuerà lo stesso a controllare questa piazza perché continuerà a vendere tre prodotti anziché cinque quindi la polizia giudiziaria dovrà comunque continuare a contrastare questo pezzo di territorio ma poi scusi venderà comunque anche l'altra perché la venderà a un prezzo minore ora ci arriviamo sì per completare questo secondo uno studio la marijuana di stato costerà tra 10 e 12 euro al grammo perché ovviamente noi dobbiamo costruire delle serre pagare la luce pagare l'acqua e pagare gli operai assicurati comprare un essiccatore e poi mettere nelle bustine da un grammo e poi portarli in farmacia anche il farmacista vuole il suo guadagno quindi arriviamo a 10 e 12 euro al mercato nero un grammo di marijuana costa 4 euro e allora se il tossico non ha i soldi per comprarsi le sigarette perché va a comprarsi le cartine col tabacco perché si fa la cartina la sigaretta a mano perché per risparmiare figuriamoci se va dal tabacchio in farmacia a comprare la 10 e 12 euro al grammo ma mettiamo il caso in cui c'è un 20% di persone che guadagnano dei 10 mila euro in su e quindi possono permettersi il lusso di comprare un grammo di marijuana 10 euro in farmacia io come stato mi dovevo preoccupare di migliaia di ragazzi che sicuramente non guadagnano 10 mila euro al mese e anche avendo 18 anni non potranno andare a comprare in farmacia quindi diventa una cosa di elite per ricchi quelli di andare a comprare in farmacia cos'altro dico ah si è detto un'altra cosa se noi legalizziamo la marijuana e l'ascisci lo stato incasserà 4 milioni e mezzo di euro l'anno di tasse questa cosa vi dico la verità mi scandalizza mi scandalizza perché intanto è lo stesso ragionamento che è stato fatto quando è stata fatta la legge per i videogiochi per le macchinette che si mettono nei bar nelle cose è stato detto allora mettiamo le macchinette così autorizziamo così lo stato incassa 2 milioni e mezzo di euro l'anno nessuno gli ha detto e nessuno oggi ci dice quanto costa l'eduopatia quanto ci costano ora i malati da dipendenza da gioco che sono nelle comunità europee che io vado a trovare non quelli che stanno discutendo in Parlamento a fare la legge che sono a favore della legalizzazione perché quando io vado nelle comunità europee quando io vado nelle comunità europee ci sono delle persone di 50 anni che piangendo mi dicono procuratore faccia di tutto per non far passare questa legge noi siamo partiti tutte con le canne e sono gente che hanno davanti bambini di 2-3 anni che il giudice gli ha dato per 2-3 ore per fare e vedere e andare nella comunità di San Patrignano o di Don Muccioli a di Don Muccioli in Toscana Don Mazzi andare lì e vedere 2.000 persone guardate che è difficile parlare davanti a 2.000 persone in quelle condizioni io non ci riuscivo a parlare io per parlare ho dovuto puntare fissare lo sguardo in un vuoto nel vuoto alto guardando tipo puntando una piastrella perché non mi usciva la voce a vedere 2.000 persone piangere cioè vedere mamme di 70 anni che tengono il figlio di 50 anni dal braccio e quel giovane di 50 anni quella persona di 50 anni tossicodipendente che abbracciava i bambini di 2 anni è terribile e allora andiamo ora a vedere quali sono gli effetti sul cervello dell'uso sistematico della marihuana l'uso sistematico della marihuana riduce lo spessore della corteccia cerebrale che è la parte del cervello dove risiede la memoria e proprio i ragazzi nella formazione la crescita fisica anche dell'organismo del corpo c'è anche il cervello che deve crescere e con l'uso sistematico di marihuana il cervello non cresce e voi vedete dei ragazzi alle 10 di mattina che sono intontiti come pugili suonati ed io sono stato pochi mesi fa in un liceo vicino Lecce dove una dirigente scolastica che poi ho rimproverato una persona intelligente per bene splendida ma oltre ad invitare me ha invitato un parlamentare ha invitato un senatore della repubblica il quale ha detto a quei ragazzi che la marihuana non crea dipendenza e questo è gravissimo state attenti a chi fate entrare nelle scuole non è possibile dire una bugia che sul piano scientifico è smentita non sono io a dirlo e allora non possiamo andare a raccontare ai ragazzi che la marihuana non crea dipendenza perché c'era un gruppo di spinellati alla fine della sala che faceva il tifo da stadio quando ha sentito il senatore in quel modo sono presi d'aria hanno avuto coraggio hanno preso aria e cominciavano a sentirsi ringalluzziti perché gli aveva detto il senatore ma vi rendete conto? beh perché il senatore dopo che è uscito si è andato a fare una canna forse se ne era fatta anche una prima un'altra cosa ora mi viene in mente questo senatore per spiegare la non dipendenza dalla marihuana ha raccontato uno studio fatto da una università del Colorado ora cosa era accaduto? quindi ha raccontato ha parlato di questo studio fatto che uno studio effettivamente c'era effettivamente c'è stato uno studio che lo stai scolorato ma era esattamente il contrario di quello che ha raccontato il senatore sapete perché? due giorni prima io ero stato invitato al senato per parlare con un tossicologo per parlare degli effetti della marihuana e dell'Ashish e in borsa avevo proprio le fotocopie di quel lavoro di quella relazione fatta dall'università del Colorado mi sono ricordato l'ho cacciata dalla borsa e incominciamo a leggere ovviamente questo senatore ha incominciato a cambiare colore e leggo aumento da adulti aumento della schizofrenia del 56% aumento degli incidenti stradali mortali del 6% incidenti stradali non mortali del 25% è uno studio dell'università del Colorado la stessa che lui citava per dire che non creava dipendenza io la leggo e dice esattamente il contrario dice un disastro ma vi racconto un'altra cosa che mi è capitata in una trasmissione televisiva c'era un questa volta mi pare fosse un deputato il quale dice facendo lo splendido dice ma io sarei anche per la legalizzazione della cocaina allora io rispondo guardi lei è una persona coerente perché dice che bisogna e si può legalizzare anche la cocaina c'è un problema solo un dettaglio guardi la cocaina la pianta di coca è come il bergamotto il bergamotto si produce da Villa San Giovanni a Gioiosa Ionica con epicentro a bova man mano che ce lo teniamo a bova si riduce la resa del frutto la pianta di coca si produce solo in Colombia Bolivia e Peru solo in questi tre strati siccome in questi tre stati la cocaina non è non è legalizzata non si può vendere non è un prodotto che si può vendere chi più chi meno cerca di contrastarlo a quelle latitudini e allora mi dovrebbe spiegare lei che è un parlamentare che quindi lei ha potere di legiferare quindi di organizzare anche questa dove andreste a comprarla per curiosità dalle FARC dalle BACRIM che sono i 10.000 ex AUC che erano i paramilitati di destra che hanno fatto la pacificazione col governo colombiano oppure va scende più a sud e fa gli accordi col cartello del Golfo del Messico o con i o con i lezzetas che è l'organizzazione terroristica più importante e più grande del Messico che sta invadendo gli Stati Uniti di cocaina mi spieghi mi spieghi da chi andreste a comprarla e lui e lui che ha detto è rimasto è rimasto è rimasto quindi in sostanza diminuisce la corteccia no? sì l'uso io ho l'impressione che molti di quelli che intervisto io ci abbiano la corteccia diminuita si vede che da giovani hanno fatto va bene andiamo avanti e passiamo ad un altro tema lei è venuto in trasmissione da me molto gentilmente intervistato quando è successo del cara dell'isola di Capo Rizzuto dove tra l'altro è stato messo in galera anche un prete che tra l'altro se non sbaglio per assistenza spirituale 180.000 euro 180.000 euro per assistenza che erano destinati all'acquisto di giornali sì però lui li faceva per assistenza spirituale poi e sono stati stornati dall'acquisto di giornali in assistenza spirituale in favore di questo prete e beh lo spirito è infinito se che quanto può costare 180.000 euro esatto 180.000 euro quindi anche un prete per assistenza spirituale 180.000 euro e a che punto siamo lì procuratore sì stiamo a buon punto stiamo per finire ancora ci sono un paio di cose da approfondire da chiarire qualche risvolto qualche passetto avanti lo faremo ancora anche perché io sono arrivato un anno e tre mesi fa un anno e due mesi fa quindi sono arrivato già a cose fatte quindi non è che mi sia piaciuta poi tanto al cento per cento quell'indagio cioè c'erano delle lacune delle cose che forse bisognava approfondire un po' di più comunque i colleghi hanno fatto un buon lavoro sono impegnati anche bisogna tenere conto anche quelle che erano le energie che c'erano al tempo alla procura di Catanzaro e dalla polizia giudiziaria è tutta manovalanza dove lì assolutamente no questi secondo c'è anche roba sì secondo un'informativa fatta molto io in genere dico quello che è successo mai quello che succederà io mi riferivo a quelli si figuri se voglio estorcerle qualcosa mi fa subito una bicicletta no 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 vorrei tornare in Milano di domani no no assolutamente io ho la fama di essere cattivo ma non sono cattivo no la ringrazio guardi intanto secondo il lavoro fatto dalla Guardia di Finanza 36 milioni 36 milioni di euro in questi anni sono andati nelle mani dell'andrangheta su 110 36 sono andate nella mani dell'andrangheta un quarto diciamo che no un terzo c'è stata diciamo che c'è stata anche un omesso controllo da parte che non doveva controllare da parte della prefettura diciamo che la legge così come non è fatta bene è a maglie molto larghe e consente la possibilità di rubare abbastanza facilmente nel senso che il come si viene pagati quella sulle cooperative dice beh io ho 100 là dentro risulta che sono 1000 extra comunitari anche se poi in realtà ci sono 500 io vengo pagato per 1000 ma poi c'è un altro dato molte volte siccome noi abbiamo messo una telecamera noi abbiamo documentato che nemmeno i pasti bastavano erano sufficienti per quelli che c'erano molte volte c'era il 50% di quello che effettivamente lei ha detto trattati come i maiali nel senso che il mangiare non era buono perché noi avevamo l'espressione di quando mangiavano questi e quindi lo vedevamo lo vedevamo si speculava anche sulla qualità anche sulla quantità quindi è anche un problema è anche un problema di coscienza è un problema di coscienza ma insomma siamo giornalisti noi siamo andati a vedere un po' quel che mangiavano e qualcuno di noi ha provato anche a mettercelo in bocca e ha vomitato certo quindi diciamo quello è il livello poi tutto questo viene chiamato in certi modi ora andando avanti sempre sul tema dell'immigrazione perché devo darle atto che lei quando tale dottor Carmelo Zuccaro procuratore di Catania disse che era d'accordo con la polizia giudiziaria a bordo delle navi delle ONG perché tutta la storia dell'ONG la sapete qui com'è hanno fatto un regolamento dove impongono che sopra a determinate navi ci vada la polizia giudiziaria perché sono successi molti fatti per cui vogliamo controllare quindi niente di particolarmente insomma se uno è tranquillo se io ho uno della polizia giudiziaria che entra a casa mia ce lo faccio entrare se ho un cadavere non ce lo faccio entrare quindi c'è un problema allora lei a questo signore qui gli dette disse no Zuccaro ha detto delle cose ragionelle e lei stesso disse in varie occasioni ha detto che appunto non solo polizia giudiziaria ma servirebbe un'attività di intelligence molto più importante di quella che viene fatta ora per capire cosa succede in quel traffico lì sì in sostanza io ho detto questo a un certo punto il procuratore Zuccaro che è il procuratore di Catania che è uno dei procuratori più onesti che ci sono in Italia credete è un gentiluomo una persona per bene lontano miglia e miglia dai centri di potere o da magheggia eccetera un bel magistrato che io ho avuto modo di conoscere di apprezzare di frequentare e anche di lavorare assieme a lui con indagini collegate tra quando ero a Reggio Calabria tra Reggio Calabria e Catania lui era procuratore giunto all'epoca ho visto che a un certo punto lui è stato ascoltato dalla commissione Schengen a un certo punto ha messo in discussione le ONG cioè attenzione tutte le ONG non è che tutte le ONG fanno bene il loro dovere o rispettano i protocolli guardate che ci sono delle ONG che sono d'accordo con questi che organizzano i traffici se lo sono mangiato vivo tutti tutti tutte le chi aveva potere chi aveva potere chi era chi aveva anche ruoli istituzionali mi pare anche il presidente della Camera e lo hanno attaccato per prima per aver detto il re è nudo ha detto il re è nudo a quel punto nessun magistrato ha parlato la NM non ha parlato nessuno il CSM non ha parlato era rimasto solo questo poveretto era solo con quello che aveva detto siccome io dico sempre quello che penso costi quel che costa nei confronti di cunque soprattutto su me stesso perché ripeto ancora una volta se io parlassi di meno avrei fatto una carriera molto più più veloce ma a me piace dire quello che penso e se necessario torni indietro e facci il sostituto ma continuerò a dire quello che penso e allora gli ho detto no attenzione Zuccaro ha detto la verità è un gentiluomo merita rispetto se Zuccaro ha detto in quel modo vuol dire che sul piano giudiziario lui dice io ho delle prove ma non le posso utilizzare cosa vuol dire? vuol dire lui aveva delle intercettazioni le trasmissioni radio che la marina militare aveva ascoltato aveva sentito che dalla Libia arrivavano dei segnali per indicare il punto nave dove quella nave nel Mediterraneo si doveva posizionare e questo cos'è? questo non è un concorso nell'immigrazione cantesina se io dalla Libia ti dico dove ti devi posizionare perché lì arriveranno i concorsi come si chiama questa cosa qua? appunto e allora quindi io l'ho difeso e ho continuato a ripetere come un disco rotto in tutte le interviste in tutte le occasioni quello che pensavo poi si sono calmati perché sanno che quando io io in genere dico il 20% di quello che posso dimostrare quindi dice grattere è pazzo fermiamoci e allora poi si sono stati zitti non hanno più attaccato poi per fortuna sono uscite fuori hanno potuto rendere fruibili a tutti anche ai giornalisti quindi alla stampa quindi all'opinione pubblica gli elementi che c'erano nei confronti di certi ONG a quel punto ho detto sarebbe buon gusto chiedere scusa al procuratore Zuccher mi pare che nessuno abbia chiesto scusa a Zuccher lei generalmente dice il 20% di quel che sa quindi sul cara ce n'è di roba allora certo no dico roba eh ci deve essere qualche bel soggettone va bene lo vedremo allora io mi sono fatto anche qualche idea dunque mi ha colpito molto rimanendo sul tema dell'immigrazione mi ha colpito molto che dopo questi sgomberi di questa palazzina a Roma occupata però non abbiamo parlato proprio dell'immigrazione non ho risposto ci arriviamo subito dell'Africa non abbiamo parlato ma voglio arrivare voglio passare da qui ci arrivo va bene e le spiego perché passo da qui perché questa palazzina era occupata dal 2013 d'accordo in modo abusivo allora importanti associazioni che riguardano la magistratura hanno scritto così che bisorrebbe invitando i colleghi una parte della magistratura dell'associazione nazionale magistrati ha invitato i colleghi ascoltate bene quello che ha detto cioè lì hanno sgomberato una palazzina dove c'erano degli abusivi dal 2013 va bene allora questo gruppo all'interno dell'associazione nazionale magistrati ha detto hanno invitato i colleghi magistrati ad un necessario cambio di rotta lei poi non deve rispondere su questa cosa non la voglio stavo aspettando mi vuole bene o vuole il mio procedimento disciplinare no no io le voglio bene se le volessi male non sarei venuto fin qua io le voglio molto bene lo dico francamente poi è del 58 come faccio a volerle male che per i magistrati nell'esercizio della giurisdizione si deve dare prevalenza ascoltate bene ai diritti sociali e umani sui diritti di proprietà ora a parte l'ignoranza perché il diritto di proprietà è un diritto umano è l'articolo 17 della riccazione universale di diritti quindi qui siamo già bocciati all'esame di diritto internazionale ma lasciamo perdere questo ecco io dico le chiedo questo e così parliamo ancora di immigrazione non la voglio il parere super le dico ma perché è così difficile in questo paese mettere insieme ok i diritti di proprietà individuali eccetera e i diritti sociali cioè il rispetto della legalità e la solidarietà ma perché se si parla di rispetto della legalità soprattutto nel campo migratorio si è subito additati ma non appartenendo a una parte politica per un'altra sto parlando di un giornalista con un magistrato perché immediatamente dice si li vuoi applicare sei poco solidale siccome questo lo hanno detto a Minniti è intervenuto la chiesa ci manca che intervenga la proloco qui di dove siamo o la proloco di San Giovanni in Fiore e sono intervenuti tutti su questo dicendo occhio perché si va contro i diritti umani fondamentali perché secondo lei è così difficile perché tutte le volte che si fa una roba in favore della legalità cioè di dire va bene accogliamo ma legalmente quello anche se si diciamo si riferisce a coloro che palesemente sono illegali viene accusato come non solidarista non attento ai diritti umani non attento alle questioni di umanità perché? intanto io dico che si possono coniugare perfettamente si possono coniugare perfettamente e non sono in contrasto e non sono in collisione diritto di proprietà con la solidarietà sono due cose che non dovrebbero confliggere in un sistema democratico in un continente efficiente mi riferisco all'Europa che voi sapete che l'Europa è un'Europa è l'Europa delle banche è un'Europa che si interessa solo di economia è un'Europa che discute due mesi tre mesi delle quote latte è un'Europa che non discute di sicurezza che non ha la cultura del controllo del territorio e quindi questo la rende perfettamente debole cioè il fatto che il dato che ci si continui ad incontrare tre quattro stati a seconda dei bisogno delle forze in campo delle convenienze che ci si incontri a Parigi che ci si incontri a Berlino e ci si incontri a Roma ma scusate ma allora Bruxelles che ci facciamo tutti questi parlamentari che sono a Bruxelles il Parlamento europeo a cosa serve se noi per discutere di un problema che riguarda tutto il continente europeo andiamo a Parigi o andiamo a Roma ci chiamiamo i due governi libici a Parigi mentre Roma si chiama i sindaci che poi Parigi si è fatto un bel casino in Libia un po' d'anni fa è certo bombardato fuori dal trattato dall'ONU fuori dal trattato dalla Nato fuori dalla comunità europea si mette a bombardare la Libia prima degli altri pensando di mettere il cappello sui pozzi di petrolio allora ci diciamo allora cosa ho detto io l'immigrazione in Europa verso l'Europa non è un fatto emergenziale durerà decenni e così come stanno le regole del gioco finirà quando si svuoterà il centro Africa ancora oggi il 98% degli immigrati che arrivano in Europa 98% partono da quattro state del centro Africa io è da anni che dico e l'ho ribadito questa primavera alla commissione Schengen e alla commissione dei Cara mandate l'Aise nel centro Africa l'Aise sarebbe i servizi segreti italiani all'estero mandate l'Aise all'Africa nel centro Africa vedete chi è che sta e organizza l'attraversamento del deserto perché si parla solo dell'attraversamento del Mediterraneo dove muore un terzo delle persone che cerca di attraversare e un altro terzo muore nell'attraversamento del deserto e allora vediamo chi è che organizza le organizzazioni criminali che stanno lì questo nel breve periodo e incominciamo a interfacciarci con quegli stati incominciamo a interfacciarci sul piano giudiziario sul piano investigativo con quegli stati e collaboriamo sul piano investigativo strumenti tecnologia mezzi per bloccare lì le organizzazioni criminali questo nell'immediato nel lungo periodo andiamo a risparmiare se vogliamo trovare solo un aspetto economico perché 400 euro in Italia valgono 4000 euro nel centro Africa quindi andiamo a risparmiare con un terzo di spesa di questo pessimo servizio taxi che c'è nel Mediterraneo noi andremo a costruire questi quattro stati andiamo a costruirli con le nostre imprese quindi lavorerebbero le nostre imprese andiamo a costruire aziende agricole università scuole ospedali risparmiando milioni di euro pulendoci la coscienza perché noi ci definiamo cristiani noi ci definiamo caritatevoli noi ci definiamo buoni non è vero perché noi ogni volta che siamo andati all'estero noi europei abbiamo avuto sempre una cultura coloniale abbiamo imposto la nostra cultura pensando che noi di essere una razza superiore di essere i migliori del mondo e siamo andati lì abbiamo violentato la loro cultura pensando di doverle di avere un potere noi supremo su queste etnie o su quelle su quelle culture questo è stato l'errore intanto l'errore di partenza perché quella non è generosità quello è colonialismo quello è impero e non è un caso se poi le bombe se se l'Isis che è solo che è soprattutto un fatto commerciale non è un fatto di soldi di potere l'Isis è come le mafie è mafia l'Isis non è non è c'è poco di ideologico l'Isis anche se è un po' difficile duro da far passare nei media queste cose ma se noi vediamo la concentrazione sulla Francia o anche sull'Inghilterra non sono un caso sono molto odiati i francesi sono molto odiati gli inglesi e in genere gli europei all'estero in Africa o le ex colonie perché non hanno civilizzato hanno sfruttato violentato depredato e allora quando si dice si parla per bloccare l'immigrazione si dice guardate dobbiamo bloccare l'immigrazione perché arrivano i terroristi non è vero solo il 2% di quelli che hanno fatto attentati venivano dall'estero gli altri sono persone che sono nate in Francia che sono nate in Inghilterra che sono nate in Belgio perché perché non c'è stata integrazione la Francia si fanta di essere un paese evoluto attrezzato civile accogliente non è vero attorno a Parigi ci sono tante Parigi e quelle altre Parigi non sono entrate mai a Parigi e queste cose si pagano non si accoglie ciò che ci serve solo per essere sfruttato ma io non so perché da ormai da più di un decennio si continua a stare così a guardare e a fare affisarmonica un po' blocchiamo un po' li facciamo passare ma secondo voi secondo voi è la soluzione del problema sapere che in questo momento mentre noi parliamo ci sono sulle coste della Libia delle gabbie con degli immigrati carcerati reclusi non stanno attraversando il Mediterraneo perché sono prigionieri e in queste prigioni succedono violenze stupri omicidi mentre noi siamo qui a parlare e noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché nell'agosto del 2017 abbiamo abbattuto l'immigrazione del 57% ma mi pare questa la soluzione del problema abbiamo messo un tappo davanti alle coste della Libia ora vedrete di qui a poco hanno già ripreso gli sbarchi dal lato della Spagna ma non è questa la soluzione ma questo è sempre il discorso italiano e in questo caso europeo di risolvere il problema sempre a valle noi dobbiamo andare a monte del problema è come quando si parla di prescrizione quando si parla di prescrizione di cosa ipocritamente ipocritamente di cosa si discute quando si parla di prescrizione si discute se dobbiamo far scendere la mannaia con l'avviso fin indagine o con la richiesta di rinvio a giudizio o con l'assenza di primo grado è ipocrita discutere di queste cose noi dobbiamo discutere in un paese civile democratico evoluto bisognerebbe farsi questa domanda per quale motivo migliaia di fascicoli sono fermi negli armadi delle procure per 10 anni questa è la mamma di tutte le domande e quello è il problema da risolvere non poi a valle dopo 10 anni che uno è indagato 5 anni che uno è indagato mi fermo con la prescrizione se no fermo le lancette perché se no il reato si prescrive non è questo un modo democratico ad esempio di rispondere ai bisogni alle esigenze di giustizia della gente senta a proposito di giustizia ministri della giustizia quando Renzi le propose di fare il ministro della giustizia perché Giorgio Napolitano non volle ancora è vivo glielo chiedo vivete tutte e due a Roma ce l'ha al numero io non ho mai avuto rapporti con lui non sono io sono un pubblico mistero di campagna vivo su un paesino della Calabria non conosco Roma io vengo da Lucca però ora lo cerco e poi glielo chiedo va bene senta so che secondo alcune avrebbe detto che sono un pubblico mistero molto caratterizzato e questo è il 20% di quello che dice quindi salto 80 certo sul cara ne deve sapere di roba eh è procuratore hai posteri lì ce n'è di roba quando esce ci faccio 25 trasmissioni allora se non mi ha buttato fuori prima dunque c'è una cosa molto bella un certo quanto tempo ci abbiamo ancora presidente quanto tempo c'è 5 minuti 5 minuti perché dopo che ci avete a fare e vabbè si sta sotto la pioggia dicevo lei a un certo punto negli strumenti per combattere le mafie nel libro ne cita uno che a me ha molto colpito e mi ha fatto molto riflettere stamattina quando venivo in aereo anche con un filo di commozione le spiego perché io sono figlio di un deportato in un campo di concentramento mio padre è morto anche perché arrivò era distrutto quindi è morto giovane e lui era stato a Buchenwald ok io ho ragionato venendo qui verso la mezza termine stamattina che la mia generazione è l'ultima dei figli dei deportati dopo non ce n'è più perché i deportati sono quasi tutti morti anche quelli ce n'è ancora qualcuno qualcuno c'è poi c'erano i figli diretti dei deportati e poi non ce n'è più nessuno quindi mi ha fatto riflettere quanto è importante la memoria diretta perché io ho il racconto diretto ora chi ce l'ha il racconto diretto? nessun altro fuorché quelli quando lei parla di memoria da trasmettere sulle mafie dice esattamente la stessa cosa che ho provato io cioè di gente che può che deve trasmettere questa memoria perché la sa perché l'ha vissuta e soprattutto l'ha vissuta dalla parte di quei poveracci che sono state vittime delle mafie non dalla parte il discorso che si faceva sui film lei per far e dice che per far questo fondamentale è la scuola che vuol dire? allora io faccio una distinzione tra istruzione e cultura perché tutti dicono parlano di cultura parlare di cultura si è già ottimisti io cerco sempre di essere realista e parlo di istruzione perché la cultura è una cosa che viene dopo l'istruzione qua siamo ancora ai rudimenti siamo a livello di conoscenza della lingua italiana cosa voglio dire? il congiuntivo purtroppo già in congiuntivo è una cosa avanzata sta succedendo questo purtroppo ai noi i ragazzi ormai scrivono solo sul telefonino una lingua che non è la lingua italiana oggi abbiamo trasformato stiamo trasformando le scuole in progettifici e nelle scuole continuamente si fanno progetti non c'è un posto non c'è una scuola dove non si fa un progetto su legalità e c'è un abuso su questo allora io dico lasciamo i ragazzi la mattina nelle scuole a imparare l'italiano la storia la geografia la matematica e poi pomeriggio facciamo i progetti facciamo la scuola a tempo pieno poi possiamo parlare di cultura poi possiamo parlare di pomeriggio leggere libri vedere film fare corsi di recupero ci sono migliaia di insegnanti calabresi che in questo momento sono a Lecco sono a Udine a fare le supplenti potrebbero fare con tanti soldi che si buttano in Calabria si potrebbe fare una scuola a tempo pieno e le nostre maestre i nostri insegnanti potrebbero lavorare di pomeriggio a fare una full immersion sull'istruzione e poi parliamo di cultura bisogna chiudere per cominciare le voglio fare altre due domande e abbiate un mattino tanto è estate che vi fa un po' d'acqua vi fa bene allora la cosa è questa lei metà vita l'ha fatta sotto scorta perché ha 59 quindi sono 28 anni d'accordo? ne ha 59 e quindi è metà e tra l'altro scorta ben giustificata da varie cose quando ha cominciato a fare il magistrato l'ha fatto evidentemente perché aveva dentro di sé un ideale una forza un qualcosa che voleva fare quella roba lì ce l'ha ancora dentro come allora? sì certamente io ho fatto ho detto voglio fare qualcosa per la mia terra questo è stato uno dei motivi per i quali me ne sono andato anche negli ultimi anni mi sono stati offerti posti anche 10.000 euro al mese ho detto voglio stare nella mia terra cercare di cambiare di fare un'investione di tendenza e oggi a Catanzaro stiamo facendo una grande rivoluzione stanno cambiando tante cose e ci sono migliaia di persone che credono in noi e non è vero che immagini io non mi sento solo non sono stato mai solo io ho il problema contrario io non riesco a stare un'ora da solo questo è il problema che ho quindi vi ringrazio dell'affetto e del fatto del dato che ogni settimana vengono mediamente 100-150 persone appare denunce alla procura di Catanzaro purtroppo anche da da luoghi dove di commesse reati dove io purtroppo non sono competente però fidatevi stiamo migliorando cambieranno le cose avremo una Calabria migliore grazie a tutti